ciao 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 non perchè c'e l'audio? I could, I could do everything! I can't do it alone, why are they split the croc? I can't do it, I can't do it! I can't do it! I can't do it, I can't do it! I can't do it! I can't do it! I can't do it! They're like the gate, they're like… They're like the gate, they're like… They're like the gate… I can't do it… You can't do it, I can't do it, you can't do it! Oh, I can't do it! Ok, where? 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 I don't know… No, cazzo! Dov'è? Invisibile? Non lo so, dov'è? No, ho messo l'hyper a cazzo, perché non lo vedevo Guarda, ma guarda Plasma Asma, che sciolto io Guarda, guarda, è più bello, è più bello così che senta, guarda Non c'è pare, è pare una tartaruganigiana inutata, po' Hai penici Hai spit, hai cut Ero tipo la quinta, andavo la ninja, poi mi hai detto che non c'era spazio per la serie tv Allora sono andato a fare su battle ride a fare un po' di spazio Eeeh, seems legit Sì, sì, focusiamo Jun Wong, è già morto È morto, è morto È morto È un po' un gelato Beh, però non mi stanno a focussare Eh, a me mi hanno bloccato Ah, ah, ah Hai to' bloccato lui Stai fuori lui Eh, cerco da... oh, ci sono arrivato ma sono quasi morto Andiamo da sopra Mi ne ho mandato col... Uh, grande plan Anzi no, grande snatch Dove sta? C'è la ulti per lui Madonna, ma hai messato con tempo E' qua Eh, vabbè, è morto Su quanto di vita sono rimasto? Tre? Che bello Del pugni nelle mani O le fiamme nella testa Eh, però non ci siamo Qua siamo entrambi blu e tu sei rosso Epic No, di spagno al cuore Ma te credo non l'hai sciopata Ok Un bi-ge Ok, perché lui è l'i-ge L'u-ge 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 E' Super Mario Dove l'hai nascosto? Non l'ho nascosto da nessuna parte Dove l'hai nascosto? Super Mario Spiegati, bello Oh, dai, facciamo Focus Geomong di nuovo, dai Vai Che palle sto gut di merda No, sto per morire Uo, è morto, è morto No Siete per giù, mo Eh, sto morendo io, però Eh, ma non mi cuo di nulla Perché Non avevo ancora il quest Io ho petrificato le macchine là No, è bellissimo Eh, vabbè Trenta l'ha fatto con salto No Eh, vabbè Trenta l'ha fatto con salto K No Come ho fatto Uh 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 Divene due a cappini Divene due a cappini Divene due a cappini Due a cappini Divene due a cappini Divene due a cappini Sono quei, sono quei due che ha fatto le prime cose Divene due a cappini Eh, sì, è giusto Divene due a cappini Divene due a cappini Grazie.